È pronto ad entrare nella fase operativa il progetto di valorizzazione naturalistica dell'asta del torrente Arado dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi alla città di Belluno. Si tratta del tratto di sentiero che costeggia il torrente Arado e che dall'area di Bolzano Bellunese permetterà agli escursionisti che hanno percorso l'alta via numero 1 di raggiungere il centro di Belluno senza dover camminare lungo la strada principale. La giunta comunale del capoluogo ha approvato il tracciato ed è stata sottoscritta la convenzione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. È un progetto veramente importante quello che stiamo portando avanti con l'ente Parco delle Dolomiti e con il suo presidente Ennio Vigne che ringrazio per la disponibilità e la condivisione di questo progetto. È un progetto che dà la possibilità ai tanti turisti che arrivano nella nostra città attraverso l'alta via numero 1 di non percorrere più la strada di Bolzano Bellunese anche pericolosa ma di seguire un percorso per arrivare in centro città in tutta sicurezza e anche apprezzando il nostro paesaggio e la natura che abbiamo attorno alla nostra città. Il cantiere prenderà il via nei prossimi mesi e sarà diviso in più stralci. Con i 500.000 euro assicurati dall'ente Parco sarà possibile redigere il progetto definitivo sulla base del tracciato ipotetico individuato nei mesi scorsi quindi sistemare il percorso e installare la cartellonistica informativa. Si prediligeranno tracciati e sentieri già esistenti in parte lungo lardo e in parte più interni e gli interventi consisteranno nella loro sistemazione, nella messa in sicurezza e valorizzazione dei moriti a secco che li caratterizzano. In alcuni punti il percorso lungo il torrente è infatti franato da qui la decisione di spostare parte del tracciato e valorizzare così anche i piccoli borghi interni con le case in pietra tipiche dell'architettura rurale bellunese. Il collegamento del centro storico di Belluno con Bolzano Bellunese sono le parole del presidente del Parco Ennio Vigne riveste per noi un'importanza strategica perché sottolinea la centralità del comune capoluogo e ne rafforza il legame con il territorio dell'area protetta. Fondamentale nella realizzazione del progetto è il contributo della sezione del CAI Belluno con il quale il parco sta rafforzando in questi anni una collaborazione sempre più stretta e proficua.